SIGEP 2019, Darish Sochik, è il generale manager di CANDY at SIGEP. Darish, buongiorno. Buongiorno. Che cosa fa la produzione? Facciamo diversi prodotti per la industria confezionale, termostabili, gel e glazze per gli artisani e per gli clienti industriali. Che tue compagnie exportate? Sì, abbiamo exportato in 14 paesi, non ancora l'Italia, da questo motivo siamo in SIGEP. Inoltre centrali e interna Europa ma anche la Federazione russiana, Kazachstan, Spagna, Finlandia e molti altri paesi. Quale è il tuo target? La compagnie dei tuoi clienti? Chiaramente, piccola, mediodata, grande o tutto ciò? Abbiamo prodotti per tutti i clienti che utilizzano i tuoi prodotti. Abbiamo venduto anche per i grandi clienti industriali e anche per i prodotti dei piccoli artisani. La tua compagnie è più di 30 anni e è basata in Polona, certo? Sì, siamo basati in centrali Polona, è una compagnie di famiglia che iniziò dal mio padre nel 1985. Abbiamo avuto più di 30 anni di esperienza con il prodotto di prodotti. Quindi, sei anche interessato nel mercato italiano. Cosa vuoi dire al pubblico italiano che riguarda la tua produzione o al tuo distributore italiano? Il mercato italiano è molto interessante, ovviamente. È il centro del confezionario e da razzi historici. Abbiamo buoni prodotti quali, basati su alta qualità e relativamente cari frutti da Polona. Grazie. L'ultima domanda. Siamo nel terzo giorno del CIGEP. Qual è la tua opinione? È la prima volta che hai attenzione questa esibizione, certo? Sì, è la prima volta. È molto interessante. Abbiamo avuto molti clienti, non solo dall'Italia, ma anche dall'Italia, dall'Italia, dall'Italia e dall'Italia. In Bulgaria, per esempio. Abbiamo avuto alcune conversazioni molto seriose. Probabilmente abbiamo avuto una distribuzione in Italia. Quindi, sono molto felice di venire qui. Grazie, Dariusz. Ti auguro un buon CIGEP. Grazie. Grazie.